Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Euro Coach Simulator Ebbene, dopo tantissimo tempo, finalmente un gameplay su questa mod In cosa consiste? Praticamente guideremo gli autobus direttamente su Eurotrack Simulator 2 A dir la verità, in questo ambito ci dovrebbe essere prima o poi un gioco, un DLC Però se ci pensate, la SCS Software è da tantissimo tempo che non ci fa sapere su Eurotrack Simulator Quando fu chiesto allo sviluppatore, beh, quindi al SEO, che dobbiamo fare con Eurotrack Simulator Ha detto, guarda, noi ci stiamo concentrando molto di più su Eurotrack Simulator e American Track Simulator Non pensavamo che Eurotrack e American Track facessero tutto questo successo Quindi lo sviluppo di Eurotrack era nato quasi in parallelo con Eurotrack Poi, siccome Eurotrack ha avuto un boom, alla fine ha un po' abbandonato il progetto Come vedete, nella mappa di Eurotrack ci sono queste stazioni di autobus Che sono fruibili senza alcun tipo di mod E la mod qui, in questo caso, è solamente l'autobus Quindi, probabilmente un giorno uscirà sto DLC, non si sa Magari scrivete nei commenti quando esce un post dell'Eurotrack Software su YouTube Beh, Eurotrack Simulator, any news? No, a me piacerebbe un sacco, perché la Eurotrack... Ecco, il problema è che magari uno, avendo visto Eurotrack Simulator 2, dice Wow, Eurotrack sarà una bomba Ma magari, al momento, non vogliono deludere le nostre aspettative Quindi preferiscono rallentare un po' Non lo sapremo mai Speriamo che la SCS Software, prima o poi, ci faccia sapere su questo gioco rimasto in sospeso Ho parlato fin troppo Ah, approfitto anche per salutare un nuovo abbonato Dani Venturi, che si è abbonato da qualche giorno E non posso che salutare anche il mitico Henry Che ormai è un abbonato super storico Ogni tanto ci sta a ricordarlo E siamo pronti per partire con questo Neoplan Bellissimo, davvero fatto bene Con la livrea di Flixbus Che dite, partiamo? Partiamo subito Saliamo a bordo E vediamo un po' Com'è questo autobus Accendiamo Neoplan Che tra l'altro, non vi ricorda qualcosa sto volante? Non vi ricorda un brand di camion? Eh sì, questo qui fa parte sempre del gruppo Mantrack, ok? Quindi è per quello Ma devo dire, è fatto veramente Cioè, guardate gli interni Sono pazzeschi Chi l'ha fatta sta mod? Non so se l'hanno presa da un altro gioco Però, davvero, modello fatto benissimo Con tanto di telecamere digitali Vedete? Ci sono gli specchietti digitali E dove stiamo andando? Stiamo partendo da Mahaga! Ho sputato sul microfono Scusatemi Iniziamo bene sto gameplay E dobbiamo andare a Algaciras Algaciras Se sentite bene Non so se si sente Da Dalle cuffie Ma siamo praticamente attaccati all'aeroporto Ecco perché si sente Si sente il rumore Sono passati già tre minuti In Poderak ancora tu Non hai fatto niente Facciamo retromarcia E partiamo per andare A portare O andare a prendere I nuovi I nuovi amici Fritz qui Ok? Ok? Ta 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 Allora, niente abbaglianti Vero Poderak? Ok? Io raga Non capisco mai Che cacchia A me piacciono Davvero tanto Le mod Sugli autobus Perché sono Un patito di autobus Cioè Per dire Dopo i camion Secondo me Come passione di simulatori Ci sono gli autobus Poi ci sono tutti gli altri Car simulator Tutti quello che volete Comunque Cioè a me piacciono un sacco E per questo che Se ho l'occasione Vi porto The bus Fernbus Tutti quei giochi lì Perché Sono davvero belli Io vorrei tanto Che arrivasse Il gioco Ufficiale Quindi diciamo Un gioco O un DLC Anche va bene Dalla SCS Software Perché In termini di Qualità Qualità gameplay Sono sempre riusciti A creare un gioco Equilibrato Su Qualsiasi PC Cioè Per dire Io mi ricordo Che avevo iniziato a giocare A Eurotrack Oddio Ho visto Un aereo sparire Comunque Mi è Apparso un aereo Davanti Se non vado errato E La qualità dei giochi Della SCS Software Sono indubbiamente Incredibili Forse è per quello Che stanno tardando Perché non vogliono Deludere le nostre aspettative Va bene Poderack Che Magari Sì Effettivamente Da tanto tempo Che non portano Aggiornamenti Sul nuovo gioco Cioè L'ultimo gioco È appunto American Truck Simulator 2 Uscito nel 2016 Se non vado errato Ma Cioè 2016 17 18 19 20 21 20 Sono 6 anni Che non arriva un gioco nuovo Però è anche vero Che È Da Praticamente Quasi 10 anni Che c'è Eurotrack Simulator 2 E Lo continuano ad aggiornare Cioè Addirittura Dovrebbero Arrivedere Il prossimo camion Sarà probabilmente Il Man TGX 2020 Finalmente Poi Chi lo sa Arriveranno nuovi brand È un gioco In continuo aggiornamento Insomma Quindi è abbastanza giustificato Che il team L'abbia un po' abbandonato Euro Coach Simulator Però Io davvero Lo vorrei tanto Vorrei anche solo Un aspetto Oh guarda Poderack Lo pubblicheremo Nel 2030 Va bene Ma basta saperlo Non abbandonate Lo sto progetto E se c'è Software Cosa ne pensate Voi scrivete nei commenti Poderack Si è vero No Poderack Voglio un Eurotrack Simulator 3 Ma Raga Eurotrack Simulator 3 Secondo me Non uscirà O cambiano Proprio Ma Finchè aggiornano Eurotrack Simulator 2 Alla fine Non abbiamo bisogno Eurotrack Eurotrack Simulator 3 Mentre un gioco Nuovo Come Euro Coach Simulator Si Perché Non so se vi ricordate Forse si chiamava Euro Driver Che è praticamente Il simulatore di autobus Della SCS Software Non è la prima volta Che sviluppano Un simulatore di autobus L'avevo giocato Euro Driver Qualcosa del genere Si chiamava così Era per autobus Da città Il simulatore Addirittura Facevano simulatori di caccia Ho visto La SCS Software Tanto tempo fa Ora si è concentrata Solo sull'aerotrack American track Va bene E Riguardo Gli abbonati Invece Ringrazio ancora Di nuovo Dan E Andry Che Sostengono il canale Gli abbonamenti Comunque Non è che dice Ah Poderack Stai diventando Miliardario No Gli abbonamenti Comunque Su Youtube Praticamente Mi sembra che Al creator Va dal 55% Quindi se voi Per dire Spendete 99 centesimi O 1 euro e 99 O quello che è Allo Youtuber A chi sostenete Va al 55% Mi sembra di aver capito Quindi al frattempo È successo un incidente Comunque Stavo dicendo Andry per esempio Mi sembra Da 9 euro e 99 Con il massimo De Degli abbonamenti Però io in totale Vedo 3 o 4 abbonati Tra l'altro Ci sono Un paio di abbonati Che si sono abbonati Ma non li conosco Non hanno mai commentato Forse hanno fatto Per sbaglio Non lo so Con l'abbonamento Da 99 centesimi Però in totale Uno dice Fai le somme Dovrebbe venire Almeno 15 euro No Io prendo Un 7 euro Quindi Probabilmente La metà Di tutti I vari abbonamenti Quindi fa 7 euro E Quali sono i vantaggi I vantaggi Sono Alla fine Sostenere Lo youtuber No Se vi piacciono I contenuti E volete In qualche modo Fare Una donazione Tra virgolette Gli abbonamenti Sono un ottimo strumento Tipo patreon Pensavo In futuro Magari anche Di creare Dei contenuti Esclusivi Cioè Per dare Un senso Immediato Per dire Se uno si abbona Ha già un contenuto Che dice Ah posso soffrire Questo contenuto E Sicuramente Lo farò Un giorno Tipo che ne so Un gameplay Un qualcosa Di esclusivo Ma non tanto Perché Gli altri Dopo non possono Vedere i gameplay E attenzione Io continuerò sempre A fare i gameplay Gratuiti Non dovete pagare Per guardare i miei video Però era per dare Un qualcosa in più Perché giustamente Se qualcuno ti sostiene Un ricambio Io lo vorrei sempre dare In qualche modo Per adesso L'ho sempre fatto Chi Chi si è abbonato Più o meno Ha sempre avuto un ricambio Però Voglio cercare Di migliorare Questo aspetto Creando un po' Un qualcosa Di accessibile Subito No Dici Ti mi abbono Ho la possibilità Di vedere certi contenuti In più Insomma Qualcosa Lo dovrò fare Anche perché È È un po' Per ricambiare No Se Va bene Va bene Che uno può Magari Abbonarsi Così Per volontà Per dire Oh grazie Per i video Che fai Mi intrattieni Quello che vuoi E Io ringrazio Sempre voi Per tutto il sossegno Che mi date In ogni caso Mi sembra Giusto fare Anche così Ma che Che io mi sto Sto andando Sto andando a Non so quanti chilometri orari Ma perché ti butti C'hai In teoria Non so come funziona in Spagna Ma mi è sembrato di vedere Lì che doveva darmi la precedenza Siamo già arrivati all'Algeri Algeri 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 E E E E E E Algeri Ciras A tue parole Poderac A tue parole Molto semplice Algeri Algeri Ciras Sono andato Sono andato in Spagna In aereo Bellissimo L'unica Ecco A scuola Molto prima Non esisteva il covid All'epoca Cioè Si viaggiava in aereo Tranquilli Sono andato a Madrid Raga Che bei ricordi Cioè Oddio Non mi ricordo niente Però mi ricordo Che era stata Un'esperienza Bella Sono passati un po' di anni Qualche foto Ancora Giù di lì Ma Molte cose Le ho un po' perse Mi ricordo che era tipo Ostello Quindi Non era bellissimo Perché i bagni erano Tutti in comune Docci in comune Tutto in comune Però Alla fine Le cose che abbiamo visitato Sono state fighe Dai Ci sta Peccato che adesso Per via di Sta pandemia Disgraziata Un po' Le scuole Giustamente Non Evitano viaggi Soprattutto all'estero Però sono esperienze Che segnano Ti danno la possibilità Di maturare Le esperienze all'estero Perché capisci Come sono le culture Capisci che Non esiste al mondo Solo l'Italia Esistono anche altri paesi Differenti Anzi Per certi aspetti Secondo me Andare all'estero Ti aiuta a apprezzare Molto di più Il tuo paese Perché Vai a scoprire Poi in certi paesi Che ci sono cose Un po' Differenti Tipo Uno dice Vado in America Bellissima l'America E poi scopri Che le armi Le possono Comprare Gani e porci Non c'è L'assistenza Sanitaria Gratuita Non c'è Insomma Un botto di robe Che invece In Italia Ci sono Ok Che l'America Magari E' super Tecnologica Però Alla fine Giri Oh Attenzione Mi piacerebbe Andare anche a me Una volta in America A viverci magari No ecco Anche perché Anche a livello Economico E' tutta un'altra storia Cioè se Se qui per esempio Qui ad esempio Fai un incidente C'è l'assicurazione Lì non so come funziona Ci sono tante cose Differenti In un paese E A volte Secondo me Bisogna solo apprezzare Le cose che si hanno No? Che ne pensate? E' sbagliato O' è corretto? Per me ci sta Per me ci sta andare all'estero Ogni tanto Ogni tanto Io sono andato Come Ma sono andato Grazie alla scuola Cioè se non Fosse stato per la scuola Non ci sarei mai andato Tipo a Madrid Cioè quindi Spagna Poi sono stato In Austria E Mi sembra Austria Ungheria Ungheria Oddio Ungheria Dicevano tutti Oh guarda che Ciao Lì compri Cinque Si è vero Alcune cose Sono molto più economiche Dell'Italia Perché è un paese Abbastanza Oddio Magari Perché io sono andato Non so quanti anni fa Un bel po' di anni fa A volte Alcuni paesi In due anni Che si stravolgono Tipo l'Albania Da quanto so Nell'ultimo periodo Sta Crescendo In un modo Esponenziale Magari La stessa cosa Per l'Ungheria Però l'Ungheria Era considerato Un paese povero Insomma Dove potevi Con Con lo stipendio italiano Diventare ricco Ma alla fine Cioè I prezzi erano quelli Non è che dici Oh Wow Let's go Risparmia tutto E poi Dipende anche dalle zone Dove vai Perché certo Se è una zona turistica Oh Ma che cacchio Ma qua Non esistono Le precedenze Non esistono Le precedenze Cioè Guardate che incidenti Oh O sono io Che sbaglio Ma no Ma la precedenza È uguale Come in Italia Ma In Spagna Sono In questa DLC Sono tutti Esaltati Oddio Oh raga Siamo arrivati Siamo arrivati All'altra stazione Per autobus E abbiamo fatto Il nostro bel giretto Abbiamo parlato Anche un po' Di cose varie E Spero che questo gameplay Vi sia piaciuto Se così lasciate Tanti Mi piace E Magari Prossimamente Continuiamo a viaggiare Qui su Eurocoach Simulator Vi lascio Qui sotto Tutti i link Per acquistare il gioco Scontato Se riesco Vi lascio Anche il link Delle mod Se riesco a trovarle E Noi ci vediamo Alla prossima Ciao